Amici carissimi, ben ritrovati sulle frequenze della mia pagina Facebook per una nuova puntata del ciclo di Catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà, giunto alla venticinquesima puntata, avremo ancora, se Dio vuole, se Dio ci aiuta, un lungo cammino da percorrere insieme alla scoperta o alla riscoperta della bellezza della vita dei nostri progenitori e del progetto fatto da Dio al loro favore, come sappiamo interrotto, come vedremo questa sera di nuovo dalla volontaria rottura di comunione operata dall'uomo nei confronti della Divina Volontà e poi riofferta e ripristinata agli uomini che si aprono alla conoscenza e all'accoglienza di questo tono. Anche questa sera vedremo qualche bravo dal 25esimo volume che è molto ricco di riferimenti proprio ad Adamo. Teniamo sempre presente che mano a mano che andiamo avanti e quindi si va verso i numeri elevati, 25, 26, 27, fino ad arrivare al 36, c'è un crescendo e c'è anche una maggiore tecnicità, lo vedremo anche questa sera, del linguaggio usato da Gesù. Teniamo sempre presente che Gesù stesso spiega negli scritti che ha seguito un percorso, un itinerario con Luisa. Ecco perché, perdonate questa piccola introduzione, è assolutamente necessario leggere bene gli scritti a partire dal primo volume, perché ci si familiarizza in questo modo, piano piano, a poco a poco, con un linguaggio che diventa sempre più tecnico, quindi si riesce anche a comprendere, a penetrare, perché se di botto ecco si legge, per esempio un brano che leggeremo questa sera, si rimane con l'impressione di non riuscire ad afferrare bene alcuni punti, alcuni concetti. Questo è assolutamente normale questo qui, quindi non dobbiamo assolutamente scandalizzarci. È necessario per accostarsi e comprendere bene questi scritti, ripeto, procedere ad una lettura continua, così come sono stati dati, quindi dal primo fino al trentasesimo volume. E insomma le persone che ogni tanto magari ascoltano, seguono quello che sto cercando insomma di mettere in comune, di condividere con chi fosse interessato. Per quanto riguarda il divino volere, si sarà accorto di quanto belle, edificanti, importanti e interessanti siano le meditazioni sui primi volumi, che sono in realtà volumi preparatori. Ecco, soltanto nel nono, nel decimo insomma si comincia a parlare abbastanza esplicitamente e fortemente, insomma, della divina volontà e poi con l'undicesimo insomma viene il passaggio insomma di qualità. Ecco, questo è importante quindi dal momento che anche l'opera che credo sia stata composta da Don Pablo Martin, che è quella che sto seguendo, che si chiama appunto Adamo e la vita nella divina volontà, è una collezione dei riferimenti degli scritti su Adamo, che va in ordine cronologico però, quindi se oggi siamo arrivati al venticinquesimo volume, vuol dire che la prossima volta, o stiamo ancora nel venticinque o andiamo al ventisei, quindi mano a mano si va in un crescendo, no? Quindi questo significa anche che alcuni concetti che abbiamo visto nelle puntate precedenti sono un po' meno ostici, un po' più abbordabili di quelli che poi andremo verificando e approfondendo andando avanti. Questo anche per dire che quando si fa un ciclo di catechesi, a me è successo anche con quello un po' più conosciuto, ecco, che era proprio il dono della divina volontà, c'è una sequenza non casuale, d'accordo, che va seguita in maniera ordinata perché se si intercetta a metà o a tre quarti del percorso è chiaro che alcune cose inevitabilmente sfuggono, ecco. Detto questo, questa sera vedremo sicuramente due brani, non so se riusciremo a far niente del venticinquesimo volume, tra l'altro sono abbastanza ravvicinati come giorni perché sono 3.13 marzo del 1929 e sono abbastanza, come dire, complementari, contigui per certi aspetti come contenuti. Leggiamo una volta, come sempre, abbiamo una prima lettura e poi un breve commento, insomma, di fissazione di alcuni punti e di approfondimento di alcuni concetti. Cominciamo dal primo venticinquesimo volume, 3 marzo 1929. Stavo continuando il mio giro nel Fiat Divino e soffermandomi nell'Eden, stavo adorando la volontà suprema nell'atto di creare l'uomo per unirmi a quell'unione di volontà che esisteva tra creatore e creatura quando fu creata. E il mio sommo bene Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, la creazione dell'uomo fu l'atto più bello, più solenne di tutta la creazione. Nella piegnezza della fuoga del nostro amore creante, il nostro Fiat creò in Adamo tutte le creature e rimase in atto di creare sempre e di rinnovare su ciascuna creatura ciò che facemmo sul primo uomo perché tutti i suoi discendenti da lui dovevano avere origine. E perciò il nostro volere divino prese l'impegno di rinnovare i nostri sbocchi d'amore come le creature uscissero alla luce, di mettere fuori tutte le nostre qualità divine e di fare nuovi sfoggi di bellezze, di grazie, di santità, di amore su ciascuna di esse. Sicché ogni creatura doveva essere una nuova festa per noi, la ben riuscita, la benvenuta e la fenice aggiunta nella famiglia celeste. O come gioì il nostro Fiat divino nel mettersi in atto di dover dare sempre alla creatura e di rinnovare la magnificenza, la sublimità e l'insuperabile maestria che doveva avere su ciascuna creatura. Ma siccome Adam uscì dal nostro volere divino, i discendenti perdettero la via per venire al primo atto della creazione dell'uomo. E per quanto il nostro volere divino non abbia smesso, perché quando noi decidiamo di fare un atto non c'è chi ci sposti e quindi sta sempre in atto di rinnovare i prodigi della creazione, adonta di ciò non trova su chi rinnovarli e aspetta con una fermezza e pazienza divina che la creatura ritorni nel suo volere per poter rinnovare il suo atto sempre in atto di poter ripetere ciò che fece nella creazione dell'uomo. E per quanto aspetti tutti trova solo la piccola figlia, la neonata nel mio volere divino, che ogni giorno entra nel primo atto della creazione dell'uomo, quando il nostro essere divino fece sfoggio di tutte le nostre qualità divine, per fare dell'uomo prendendolo delle nostre divise divine, per fare che tutti lo conoscessero come il più grande portento del nostro amore. Figlia mia, se tu sapessi con quanto amore aspetto che ogni giorno tu faccia la tua piccola visitina in quell'eden dove il nostro fiat, preso da impeto d'amore, si atteggiò a festa per creare l'uomo. O quanti atti repressi ha in sé, quanti sospiri d'amore soffocati, quante gioie contenute, quante bellezze rinchiuse in sé, perché non vi è chi entri in questo atto suo creante per prendere i beni inauditi che vuole dare. E vedendo te, che nel suo stesso volere divino, fai la vita per giungere all'atto della creazione dell'uomo, o come gioisce, e si sente tirato come da calamita potente a farsi conoscere dalle creature, affinché, facendo regnare la mia divina volontà in mezzo a loro, trovino la via per giungere al primo atto della creazione dell'uomo, per non tenere più repressi in sé i beni che vuole dare alle creature. O se sapessero le creature quanti nuovi atti creanti uno più bello dell'altro sta per creare e far uscire da sé il mio Fiat divino per versarli su ciascuno di esse, o come si affretterebbero ad entrare nel mio volere divino per ricominciare la loro vita in esso e ricevere i suoi beni infiniti. Allora, abbiamo finito la lettura di questo brano, penso che ci si accorga che in questo brano cominciamo a... sembra di sentire un po' San Paolo, no? Dice che ai bambini, fino a quando erate bambini, vi ho dato latte, adesso che si era diventato i grandicelli, vi do un po' di cibo solido. Allora, qui bisogna certamente familiarizzarsi con un pochino di... non soltanto di terminologie, ma anche di operazioni spirituali, diciamo così, tipiche del vivere nel divino volere. che queste vanno... allora, il retroterra di questo brano. Il retroterra di questo brano, in parte Gesù lo manifesta. Allora, la divina volontà si trova anzitutto, come dire, sparsa, concentrata, diffusa, nella creazione, nel cosiddetto Fiat Creante. E all'interno di questa creazione, come dire, ha raggiunto un apice, un punto omega, potremmo chiamarlo, quindi un vertice inimmaginabile, nella gioia di Dio nel creare l'uomo e ricormarlo di tutti quanti i doni infiniti di grazia, di bellezza, di canti di santità, eccetera, eccetera, con cui desiderava arricchirlo, in forza della sua unione con la divina volontà. Questa è la fattispecie. Come tutti sappiamo c'è stata una rottura di questo, e attenzione, qui Gesù dice un concetto fondamentalissimo che la Chiesa chiaramente poi autorevolmente ha ripreso, è che è anche il fondamento della dottrina cattolica del peccato originale, cioè rimase in atto di creare sempre e di rinnovare su ciascuna creatura ciò che facemmo nel primo uomo, cioè la vita di quello che sarebbe stato, la vita di quello che fu il primo uomo sarebbe dovuta essere, la vita di tutti i suoi discendenti. Il che significa che se Adamo fosse rimasto in questa, attenzione al termine tecnico, a questa unità, in questa unità con gli atti fatti dalla divina volontà nell'atto di creare l'uomo, quindi con tutti i suoi sbocchi d'amore, sfoggi di bellezze, grazie di santità, eccetera. Tutto questo sarebbe stato continuamente in atto in ogni creatura discendente di Adamo, che sarebbe stata la benvenuta, dice Gesù, una festa per il cielo, e una nuova proliferazione di sfoggi di bellezze, di grazie, di santità, di amore su ciascuna di esse. Quindi il capostipite era il depositario di ciò che da lui si sarebbe poi trasmesso ai suoi discendenti. Ora qui c'è un'espressione, penso che ci abbiate fatto caso, tecnica. Adamo uscì dal nostro volere divino, questa è già un'espressione tecnica, uscire dalla divina volontà, e attenzione che succede che i discendenti perdettero la via per venire al primo atto della creazione dell'uomo. Non sapevano più come raggiungerlo. Perdere la via. E il brano, se ci avete fatto caso, finisce con il ritrovare la via per giungere al primo atto della creazione dell'uomo. Gesù conclude dicendo questo. Se vedendo te che nel tuo stesso volere divino fai la via per giungere all'atto della creazione dell'uomo, tu gioisci e si sente tirato da calamita potente a farsi conoscere dalle creature affinché, facendo regnare alla mia divina volontà in mezzo a loro, trovino la via per giungere al primo atto della creazione dell'uomo. Come si ritrova questa via? Ecco. Cosa stava facendo Luisa? Questo è il presupposto. Dice, stavo continuando il mio giro, attenzione a questo termine tecnico, nel fiat divino e soffermandomi nell'Eden stavo adorando la volontà suprema nell'atto di creare l'uomo. Per unirmi, attenzione, a quell'unione di volontà che esisteva tra creatore e creatura quando fu creata. Io ci sono anche le persone che stanno seguendo la diretta Facebook, postano tranquillamente se vogliono interagire. Allora qui la vita nella divina volontà richiede una serie di esercizi spirituali, si chiamano così specifici, tecnici, che penso che bisogna averli ben chiari. Allora, Dio ha fatto questo, quindi crea il primo uomo e in questo atto creativo spande tutta quanto una serie di prodigi del suo divin volere, destinati a perpetuarsi e a ripetersi amplificati in tutti i suoi discendenti. Adamo rompe, è come se prendesse una forbice e tagliasse un filo, d'accordo? Io questo filo, adesso è come se io ci avessi un filo pieno di corrente senza nessun collegamento che me lo faccia arrivare. Ora, si tratta di ripristinare questo collegamento. Come si fa? Allora, qui c'è un'altra terminologia tecnica. Tu devi andarti a riprendere quegli atti della divina volontà. Come si fa questo? Si fa con un esercizio interiore, il cosiddetto giro. Io so che la divina volontà ha depositato durante la creazione dell'uomo degli atti stupendi, santificanti, letificanti, beatificanti, divinizzanti. Sono rimasti lì perché avendo Adamo tagliato il filo non possono scorrere e raggiungermi, quindi io adesso oggi non so neanche che cosa siano, mi rendo neanche minimamente conto di cosa siano. Esercizio interiore da fare, io devo, attraverso questa è una forma particolare, mi metto davanti alla presenza di Dio, entro nel divinvolere, mi rappresento nella mia ragione, nel mio intelletto, nella mia immaginazione, il momento della creazione, lo raggiungo, sono operazioni del pensiero e della volontà, queste qui, d'accordo? E metto l'intenzione di unirmi a quell'unione di volontà che esisteva tra creatore e creatura quando fu creata e intendo farla mia. Attraverso questo esercizio quella potenza, quella bellezza, quella grazia, quella santità che c'era in quell'atto e noi non lo sapevamo prima che Gesù ce lo dicesse che c'erano queste cose, la prendo, la faccio mia e quindi si riannodano quei fili e quindi quella vita nella divina volontà con tutto ciò che essa comporta e che Adamo aveva troncato ricomincia a vivere in chi fa questo esercizio, in chi ritrova la via per rannodare i fili elettrici fuori di metafora. Io non so, spero di riuscire a farmi intendere o a farmi capire. Ora, alla luce di tutta quanta questa contestualizzazione, rileggiamo alcuni passaggi molto molto belli, no? Allora, il nostro volere divino ha preso l'impegno di rinnovare i nostri altri termini tecnici, sbocchi d'amore, come le creature uscissero alla luce, mettere fuori tutte le nostre qualità divine e fare nuovi sfoggi di bellezze, grazie, santità, amore su ciascuna di esse. Allora, prendere contatto con la potenza della divina volontà significa ricevere, vivere, percepire questi sbocchi di amore divino dentro la tua anima. Sfoggi di bellezze, di grazie, di santità e di amore su ciascuna di esse. Vuol dire che il tuo contatto con la dina volontà diventerai più bello, non più bello nel senso mondano, nel senso che sei più seducente o che, come dire, se sei un uomo c'è più donne, se sei un uomo c'è più uomini. Più bello in senso bello, nel senso bello del termine. Le grazie arrivano, la santità arriva, l'amore arriva. A quale condizione riannotare questo filo? Quindi non è l'unica e ne basta ovviamente fare solo questo per vivere nella divina volontà, come sappiamo da tante catechesi e meditazioni che ci ho fatto in merito. Ma questo è un punto importante. Io suggerisco, personalmente cerco di farlo, perché non sempre si ha, come dire, il tempo, il modo, le circostanze anche, come dire, interiori per riuscire a fare bene questa cosa. Però a mio avviso, chi vuole vivere seriamente nella divina volontà, è caldamente raccomandato, diciamo così, che quotidianamente si faccia il suo giro nel fiat redimente, con l'ora della passione, e nel fiat creante, con la recita di un'ora del pio pellegrinaggio dell'anima nella divina volontà. Perché attraverso questi esercizi noi tutto il bene depositato dalla divina volontà nell'opera della redenzione di Gesù, operata dal nostro Signore Gesù Cristo, e nell'opera della creazione, li facciamo nostri. se vogliamo usare, ecco, è come se uno, come dire, andasse a fare il pieno di benzina divina, insomma, no? Ecco, noi ogni giorno mangiamo, ecco, ogni giorno è bene fare anche queste cose. Ecco, perché la divina volontà entra dentro di noi in maniera anche misteriosa, un po' come la grazia. Cioè, se io so che, per esempio, quale, se uno ti fa una domanda, tu hai un quiz, ci senti un po', nel cattolicesimo, se tu vuoi aumentare bene la grazia con un semplicissimo gesto, che cosa devi fare? Domanda retorica, la comunione. Quindi se tu fai una comunione fatta bene ogni giorno, ecco, cioè, più di questo non possiamo ottenere. Cioè, se tu punti alla santità, è evidente che la comunione ogni giorno tocca fassela. Non è detto che diventerai santo se ti fai la comunione ogni giorno, perché la comunione ogni giorno poi deve essere fatta fruttificare nelle opere sante che tu compi. Così non basta fare il giro nella divina volontà per viverne la divina volontà, d'accordo? Perché poi la divina volontà devi imparare a viverla attimo dopo attimo, senza mai fare nessuna uscita da essa. Nessuna, oppure piccoli, capito? Piccoli, come dire, nascondimenti momentanei in qualche zona d'ombra, non di più. Però come se tu non ti fai la comunione, la grazia non ti aumenta, è impossibile diventare santi, così se tu non ti abitui a questi esercizi interiori che alimentano la vita della divina volontà in te, anche, e qui è un po' più difficile, però è un cimento in cui ogni tanto dobbiamo, ogni tanto, ogni spesso, questo poi lo decidiamo noi, cimentarci, cominciare a farlo noi, parole nostre, dovunque, nella creazione, nella attenzione e anche nella santificazione. E adesso vedremo nel secondo paragrafo, come dire, nel secondo capitolo che andremo a leggere, il contenuto essenziale di questi giri e il cuore, il vertice, che sono l'andare a prendere i ti amo di Dio e andare a ricambiare i ti amo di Dio. Dice ancora che la divina volontà, Dio, vorrebbe questi atti interrotti e che sono rimasti sospesi in Adamo, rinnovarli e restituirli agli uomini, ma non c'è nessuno che li va a prendere. Dice, per quanto aspetti tutti, trova solo la sua piccola figlia, la neonata del mio volere divino, che ogni giorno, vedete, altro termine tecnico, entra nel primo atto della creazione dell'uomo quando il nostro essere divino che ci sfogge su tutte le nostre qualità divine per fare dell'uomo il piccolo re, il nostro figlio in separabile, abbellendolo delle nostre divise divine per fare che tutti lo conoscessero come il più grande portento del suo. Come si entra attraverso questa operazione spirituale, questa forma particolare di preghiera che si chiama il giro. Le preghiere, il più pellegrinaggio, le ore della passione sono anche dei modi con cui noi continuamente vediamo come si fa questo tipo di operazione. pensate, per esempio, a quando nell'uomo della passione a un certo punto mi pare che c'era la la Madonna, non mi ricordo se sotto la croce o dopo la deposizione a un certo punto c'è un'espressione dice che a un certo punto una Madonna entra nel divino volere e fa quello che materialmente non è possibile fare in quel momento mi sembra che era quando la Madonna stesse sotto la croce che voleva consolare in qualche modo, voleva dare da bere a Gesù voleva dargli conforto ma non poteva e quindi quello che non poteva fare materialmente lo fa entrando nel divino volere sono operazioni queste qui da comprendere sono operazioni spirituali queste qua chiaramente no San Paolo quando parla di queste cose parla proprio dell'uomo carnale e dell'uomo spirituale parla appunto del bambino piccolo che beve il latte e del bambino adulto che beve un nutrimento solido dice una volta prima facevo esempi carnali adesso che siete cresciuto noi tra gli eletti lui dice così parliamo di cose spirituali in termini spirituali quindi qui stiamo proprio dentro come dire il fiorfiore della spiritualità spiritualità però che non è evanescenza perché dentro queste cose qui cioè tu quando fai un atto di questo genere che è un po' come non hai una risonanza immediata sensibile ma chi lo sa che sarà mai ma quello che quell'atto produce in te è immenso non ci deve stupire questo qui perché anche i sacramenti che sono che hanno diciamo a differenza di queste operazioni puramente spirituale una componente sensibile no perché un sacramento proprio per definizione è appunto un elemento sensibile a cui per volontà divina per divina volontà ci è unito un effetto spirituale legato al compimento di certi riti alla pronuncia di certe formule da parte del ministro adeguato e alla ricezione lecita valida e fruttuosa di quel determinato sacramento quindi ma anche se abbiamo un elemento sensibile cioè quando io vado a fare la comunione non è importante che sento l'ostia sulla particola anche perché sentire l'ostia sulla particola può essere anche una cosa forviante perché mi potrebbe in generale come dire il pensiero e quello sia semplicemente un pezzo di pane farmi perdere la fede in ciò che lo che resti è no ma la comunione produce degli straordinari effetti spirituali che si svolgono completamente in una sfera che non ce li rende coscienti noi non siamo coscienti di quello che accade durante la santa comunione eppure accade ecco qui si trova una fattispecie analoga ecco e quindi qui si vede il signore Dio che ha messo tutte quante queste cose bellissime che avrebbero dovuto transitare su tutto quanto il genere umano Adamo rompe i fili e lui si ritrova cito quanti atti repressi ha in sé quanti sospiri d'amore soffocati quante gioie contenute contenute significa cioè che me le devo contenere e non le posso far uscire fuori quante bellezze rinchiusi in sé perché non vi a chi entri notare di nuovo il termine tecnico in questo suo atto creante per prendere i beni inauditi che vuole dare vedete entrare prendere i beni legati agli atti compiuti dalla divina volontà quindi vedete che come accennavo qui siamo nel 25esimo volume qui Gesù sta proprio portandoti dentro un'operazione spirituale particolare specifica determinata appunto il giro nel fiat creante in adorazione della volontà suprema che crea l'uomo per unirsi a quella stessa unione di volontà che c'era tra creatore e creatura nel lato della creazione che Adamo ha reciso e che io rientrandoci voglio riannodare questi sono altri termini tecnici il riannodare la mia umana volontà con quella divina e con gli atti che ha compiuto spero di essere stato chiaro per quanto possibile adesso leggiamo il secondo brano che è 13 marzo 1929 onde la sua luce ha trasportato la mia piccola intelligenza attenzione di nuovo nell'eden nell'atto quando il nostro creatore in una foga d'amore si preghi di sempre di notare queste espressioni focose infuocate foga d'amore in una foga d'amore creava la vita dell'amore in Adamo perché il frutto primogenito della divina volontà è l'amore allora adesso ho qui attenzione perché ecco mi devo fermare un attimino una foga d'amore creava la vita dell'amore in Adamo è che cos'è la vita dell'amore per amarlo senza mai cessare come di fatti non cessò mai e per essere riamato da lui con amore incessante se uno volesse dire in due parole cos'è la vita nella divina volontà questo tu scopri e conosci veramente l'amore di Dio te lo vai a riprendere perché lui non ha mai cessato ti avevano nei tuoi confronti e te lo vai a riprendere nella sorgente prima quella stessa foga d'amore che aveva creato la vita d'amore nel primo uomo e lo ricambi con amore incessante cioè la vita nella divina volontà è vita di amore di Dio ricevuto e diversato e di amore del prossimo cioè una persona che vive nella divina volontà si vede dalla sua vita d'amore vivi un rapporto d'amore intimo profondo e personale con Gesù con Maria con Dio stai sintonizzato sulle frequenze pure dell'amore del prossimo queste non sono chiacchiere queste qui queste sono cose che si vedono se ci sono ci sono se non ci sono non ci sono se non ci sono la vita nella divina volontà è ancora bloccata è ancora forse non partita o è ancora ad uno stadio molto primitivo molto primordiale molto piccolo perché la vita nella divina volontà volendo esprimerla in due parole è vita di amore io tante volte ho detto che attraverso questi scritti cioè tutti quanti noi cioè chi è che non conosce l'amore di Dio nel senso che non ha sentito parlare se ne parla se ne straparla se ne riparla a proposito e a volte anche un po' sproposito ma qui non è che se ne parla qui si comincia a vivere d'accordo a percepirlo a vederlo nella sua reale consistenza volle amarlo continua la citazione con un amore che non dice mai basta ma voleva essere di amato mentre normalmente si perdeva nell'amore del creatore e della creatura il mio dolce Gesù muovendosi il menterno mi ha detto attenzione prima di proseguire con la lettura di quello che Gesù le dice attenzione ancora a questa espressione volle amarlo con un amore che non dice mai basta ma voleva essere riamato dov'è che si vede per esempio un amore che non dice mai basta dove si vede nella passione di Gesù nella passione di Gesù che non dice mai basta in maniera drammatica una delle frasi a mio avviso più sconvolgenti delle ore della passione l'ho detto tante volte però purtroppo questo è è quando Gesù viene crocifisso la croce innalzata quindi al culmine di una mare insomma di inimmaginabili per noi sofferenze di ogni genere cos'altro vuoi soffrire dopo che sei stato innalzato crocifisso dopo tutto quello che ti hanno fatto prima e Gesù dice più pene ancora l'amore che non dice mai basta cioè noi siamo purtroppo ci siamo ci siamo abituati ad essere abituati a queste cose però sarebbe molto bello esserne scossi non dico sconvolti ma toccati l'amore che non dice mai basta è che vuole essere riamato amor che hanno l'amata amar perdona quindi la reciprocità dell'amore la bionivocità dell'amore la bipolarità dell'amore è richiesta da Dio stesso è voluta ecco perché il primo comandamento cioè che oggi insomma non sempre è chiaro che sei il primo è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze il prossimo non si ama con tutto il cuore con tutta la anima con tutte le forze si ama come se stessi secondo la formulazione dell'Antico Testamento si ama come io vi ho amati secondo la formulazione del nuovo ecco ma anzitutto la vita diciamolo pure la vita cristiana perché poi la vita della Dina volontà non è altro che una che la quintessenza della vita cristiana è vita di amore di amore di Dio ricevuto e ridonato anzitutto allora muovendosi nel mio interno Gesù mi ha detto figlia mia nel primo atto della creazione dell'uomo il nostro amore rigurgitò tanto forte e alzò tanto alto le sue vampe che fece sentire le sue voci arcane tanto forti e penetranti che il cielo le stelle il sole il vento il mare tutto si sentirono investiti da voci misteriose che gridavano sul capo dell'uomo ti amo ti amo ti amo questo amore immenso di Dio riversandosi sull'uomo e che oltre che riversandosi sull'uomo si spande su tutto il creato per far percepire l'amore divino anche attraverso tutte le cose create queste voci arcane e portenti chiamavano l'uomo e lui scosso come da un dolce sonno e sentendosi rapire da ogni ti amo di colui che l'aveva creato nella sua foca d'amore gridava anche lui nel sole nel cielo nel mare in tutto ti amo ti amo ti amo mio creatore altra pausa quindi questo secondo brano lo commentiamo a pause come sappiamo nei giri cioè il vertice del giro cos'è? è andare a cogliere il ti amo di Dio in quella creatura e ricambiarlo ricambiarlo cioè ricambiarlo ricambiarlo per sé e per tutti ora più si fanno questi esercizi e io ogni tanto ricordare Giova per esempio anche se abbiamo delle attività comuni per esempio quando mangi l'ho già detto tante volte in tante meditazioni ogni qualità di cibo che tu mangi è un ti amo di Dio lo è è un gusto particolare è un odore particolare allora tu che cosa devi fare per mangiare nella divina volontà cioè per fare in modo che anche quell'atto così feriale come il mangiare diventi un atto divino immenso santificante che produce che tu ti alzi da tavola non soltanto con la panza piena che anzi con la panza troppo piena non bisognerebbe alzarsi mai da tavola se uno potesse proprio fare le botte da santo la panza piena piena mai quindi si alza sempre con un pochino di fame questo dice animoni ma bisogna alzarsi da tavola con lo spirito pieno mi riempio di spirito a tavola certamente si dipende se quando cominci a mangiare la pasta dice oh mio Gesù il tuo ti amo da questa creatura pasta col sugo al ragù e lo ricambio con il mio ti amo per me e per tutti ecco da quel momento lì tu mangi cioè mangi la pasta tu e mangi la pasta un altro cristiano che non sa manco di cosa parlo ma come ti alzi da tavola tu c'è un abisso da come si alza la tavola uno stesso cristiano che queste operazioni non le ha fatte quindi foca d'amore gridava nel sole nel cielo nel mare ti amo ti amo ti amo mio creatore volevo leggere non volevo leggere con voi no la prima ora della passione alla fine dell'ora Gesù in alcune ore sappiamo che ci sono dei brani degli scritti un po' a coronamento a commento dell'ora nella prima ora della creazione c'è Gesù che prima della passione va a ricevere la benedizione della madre e prima ancora che riceve la benedizione della madre la benedisce no e poi Gesù spiega nello scritto conclusivo non stavo benedicendo soltanto mia madre ma attraverso di lei che aveva primato su tutto io benedicevo ogni creatura umana prima della mia passione e questa mia benedizione è perennemente in atto e Gesù spiega oh se tutti potessero vedere questa mia benedizione la sentirebbero nell'acqua che bevono tu sentirà benedizione di Dio quando bevi l'acqua ma guarda che nell'acqua che bevi c'è la benedizione di Gesù nel fuoco che li riscalda adesso è inverno qui dalle nostre parti chi c'è il camino o le stufe beati loro possono vedere il fuoco con quelle cose brutte insomma dei riscaldamenti moderni a gas insomma più bello vedere il fuoco nel fuoco che li riscalda nel cibo che prendono dice Gesù nel cibo che prendono la benedizione il ti amo nel dolore che li affligge sì anche nel dolore che li affligge nei gemini della preghiera sì c'è un ti amo c'è una benedizione nei rimorsi della colpa sì benedetti rimorsi della colpa nell'abbandono delle creature chi vorrei vedere chi è che sente il ti amo di Dio nell'abbandono delle creature quando qualche creatura ti abbandona in tutto sentirebbero la mia parola creatrice che loro dice ti benedico nel nome del padre di mio figlio dello spirito santo ti benedico per aiutarti per difenderti per perdonarti per consolarti ti benedico per farti santo circondati dalle benedizioni di Dio questa è una scoperta che noi facciamo almeno io l'ho fatta così in questi scritti proseguo la lettura del 13 marzo 1929 la nostra divina volontà che dominava Adamo non gli faceva perdere nulla neppure un nostro ti amo ecco qui Adamo non ne perdeva neanche uno perché stava sotto il dominio della divina volontà noi gli uomini li perdono tutti d'accordo perché qualcuno mi venga a dire quale uomo che non abbia letto questi scritti si immagina cosa di questo genere cioè che un altro elemento fondamentale della vita nel dirimboere è farti attento e ti amo che Dio ti manda tu noi siamo circondati siamo circondati altro che come dire i paesi in stato di assedio noi siamo circondati peggio ecco la bellezza anche della vita nella divina volontà no? solo la nostra volontà che dominava Adamo non gli faceva perdere nulla neppure un nostro ti amo al quale poi lui non rispondeva col suo siccome noi non siamo più sotto il dominio della divina volontà noi ce ne perdiamo quasi tutti e allora rientrare nella divina volontà vuol dire anzitutto rifarsi attenti ai ti amo di Dio e al ricambio del ti amo di Dio perché se questo non lo facciamo non si riannodano i fili era un amore un dolce il canto il serviro la potenza del nostro figlio divino prendeva sulle aree della sua luce il ti amo del nostro figlio il caro gioiello del nostro cuore e invadendo tutta la creazione ci faceva sentire in ciascuna cosa creata il suo ti amo continuato come il nostro questi processi in Adamo erano come dire automatizzati e noi no siamo noi che dobbiamo farlo questo perché non stiamo più dentro questo mondo la nostra divina volontà non sa fare cose spezzate e interrotte è la seconda volta che lo dice il nostro signore ma continue fino a tanto che Adamo possedete la sua caro edità del nostro fiat possedendo il suo atto continuato si può dire che faceva gara con noi che quando facciamo un atto non smettiamo più perciò tutto era armonia fra noi e lui armonia di amore di bellezza di santità altro termine tecnico della vita nella divina volontà è l'armonia il nostro fiat non gli faceva mancare nulla di tutte le cose nostre come come si sottrasse al nostro volere però perdete di nuovo vedete perdete la via per raggiungere le cose nostre vedete perdere la via il peccato originale è questo smarrimento della via per stare uniti con la divina volontà perdete la via per raggiungere le cose le cose nostre si formò tanti vuoti tra lui e noi questo dei vuoti è un altro termine tecnico di questi scritti vuoti quindi spazi che devono essere riempiti da chi da noi perché Dio non lascia spazi vuoti siamo noi che abbiamo lasciato spazi nuovi con l'allontanarci da lui vuoti d'amore dove stanno gli esseri umani che vivono l'amore anche nella chiesa anche nella chiesa dove sono vuoti di bellezza dove sono le persone bellissime ripeto bellissime non perché sono e suadenti affascinanti piacenti seducenti eccetera quella bellezza tutta quanta divina che traspare dalle persone sante anche dal suo tratto perché quando una persona è santa sul serio io dico sempre pure se è bruttarella perché poverina insomma non ha delle dotazioni naturali belle quindi lineamenti belli colori dei capelli belli degli occhi belli le proporzioni appunto le forme perfette di tutte quante le parti del corpo insomma piccolo o grandi che siano ma diventa bella per partecipazione perché è solare e certamente la bellezza non si riduce alla bellezza esteriore d'accordo noi siamo belli per esempio nei modi belli nel modo di vestire per esempio non belli nel senso di diventare come dire vanitosi o o amanti del lusso o della moda no ma c'è una bellezza nel vestire bellezza nel tomo della voce bellezza nel tratto queste sono cose normali nella vita nella divina volontà vuoti d'amore vuoti di bellezza vuoti di santità io mi permetto di ripetere un'altra volta l'ho già detto in più di qualche circostanza anche recentemente ci sono molti fratelli e sorelle anche nella chiesa che sono molto preoccupati ecco di carenze di santità a volte in certi settori carenze di santità vero o presunte ma comunque carenze di santità e per cui si lamentano puntano il dito fanno tante cose ma la cosa giusta da fare se vediamo carenze vero o presunte di santità è diventare santi noi quello che disse la Santa Teresa di Calcutta che cosa possiamo fare con tutti quanti questi problemi che adesso sta affrontando la chiesa una cosa possiamo farla subito cominciamo a cambiare vita io e lei il resto si vedrà sono andati a formare spiega Gesù termino la lettura vuoti d'amore vuoti di bellezza vuoti di santità e formò un abisso di distanza tra Dio e Lui abisso di distanza e perciò il nostro Fiat vuole ritornare come fonte di vita nella creatura fonte di vita nella creatura per riempire questi vuoti farla ritornare come piccola neonata nelle sue braccia e ridarle il suo atto continuato come la creò bellissimo atto continuato di cosa? atto continuato di amore la maturazione nella vita nella divina volontà secondo me avverrebbe quando qualcuno ci sta chiedendo Leonardo che stai facendo? la risposta è sto amando Gesù come stai amando Gesù? stai facendo la catechesi sto amando Gesù oppure stai lavando i piatti sto amando Gesù stai dicendo messa sto amando Gesù stai in confessionale sto amando Gesù stai bene questa è la vita nella divina volontà quando i vuoti non ci sono più d'accordo? e a questo ci si arriva chiaramente gradualmente passo passo tassello dopo dopo tassello perché parlando con una persona si può dire sto amando Gesù se con quella persona sto facendo discorsi buoni non sto facendo chiacchiere non si fanno le chiacchiere a Dio non piacciono i chiacchieroni e i chiacchiericci non si parla e non si parla del prossimo e quindi se faccio discorsi buoni e quindi si tratta di una conversazione utile sana santo edificante certamente sì perché no sto amando Gesù invece quando mi imbatto in una conversazione poco edificante cerco di sfuggire o quantomeno di stogliere l'attenzione di far cambiare discorso o tante altre cose del genere bene come dico sempre il resto ce lo dirà lo Spirito Santo nel nostro cuore qui io spero di essere stato quanto più chiaro possibile perché questa sera abbiamo toccato ecco alcune ripeto caratteristiche molto molto tecniche anche nel linguaggio ecco ma chi desidera capire ecco chi apre il cuore non avrà difficoltà ecco a vivere più ancora che a capire questa cosa importante nella sua perfezione e nella sua più intima profondità quello che abbiamo letto e meditato anche questa sera grazie a Dio bene do la mia benedizione a tutti nella divina volontà in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo vi benedica Dio Onnipotente ora e sempre grazie a tutti